Il mondo custom assume sempre maggiore importanza a EICMA, con un'area dedicata che attira ogni anno più interesse e visitatori. Tanto rock'n'roll con un partner, l'eccezione come Virgin Radio, atmosfera a luci soffuse e tante tantissime personalizzazioni, rendono questo spazio di EICMA il nuovo santuario per gli amanti delle customizzazioni e non solo per loro. Uno dei momenti clou di questa edizione è stata l'elezione di Miss Pin Up, con 12 ragazze pronte a sfidarsi sul palco di Virgin Radio a colpi di tatuaggi e sex appeal. E non è mancata naturalmente ormai la tradizionale sfida tra i migliori customizer italiani, quattro le categorie in cui i migliori preparatori si sono sfidati. Best in Show vinta da Abnormal Cycle, Chopper vinta da Asso Special Bike, HD Modified vinta da Vallese Garage e Cafferese Scrumber vinta da South Garage. Importante è la presenza di Pirelli con un'area dedicata al suo prodotto custom, il Night Dragon, che per l'occasione è stato addirittura tatuato.